la mascherina posso tolmela sono da solo allora siamo in via baltea numero 3 e ora vi porto a scoprire una chicca fatta organizzata dagli ecomori come riutilizzare le eccedenze delle eccedenze del mercato di porta palazzo tutta roba buona ora vi porto a vederla togli una curiosità queste etichette che cosa sono quanti quanti persone sono sono questi sono i ticchetti che quelli che sono vengono a prendere a ok quindi monica quattro persone ha perfetto quindi già porzionato per tutti ottima idea quindi tu sei la cavia come questo piatto della cucina ecomora super salutare direi cosa c'è dentro patate carote cavolfiori finocchi e peperoni buono buono siamo sicuri che buono buonissimo assoluto come ti chiami mi chiamo e che ci fate qua in via baltea stiamo preparando da mangiare per i bagni pubblici in viaglie spiegami cosa succede allora portiamo portiamo la frutta e verdura qua e la cuciniamo e la portiamo alle persone che hanno più bisogno dove la prendete la frutta e la verdura dai mercati che ci siamo dove ci siamo questa verdura da dove viene arriva dal portapalazzo quindi la portate qua in via baltea numero 3 la cucinate e poi la portate la portiamo ai bagni pubblici il mercoledì e cosa succede ai bagni pubblici di via liè arrivano le famiglie e distribuiamo quindi distribuite già una pietanza calda da via baltea 3 ci spostiamo ai bagni pubblici di via liè deve avere la distribuzione anticipo un po i ragazzi così di becco sul fatto e la distribuzione non la filmiamo per privacy e vederci ciao ciao ciao